Bentornati su Power Pizza, il podcast dove ho appena fatto una ramanzina a Sio e Nick sul non essere random, ma solo perché i poveri stolti non sanno che io oggi non ho preparato niente e sarò più random di loro due messe insieme. Ah, scacco matto, altri due tizi del podcast. Ciao Nick, ciao Sio e ciao a voi che ci state ascoltando. E ciao anche agli altri due tizi del podcast, spero che siano bene a essere qui con noi a fare il podcast più bello del mondo, nonché il preferito di Mattarella. Oddio, mi sono dimenticato i grissini, ho realizzato adesso, non ho guardato i grissini, sono così poco preparato oggi. Sei licenziato dal podcast, anzi ti slicenzio se mi dici quante pizza hai mangiato nell'ultima settimana, che ci stiamo dimenticando ogni tanto di chiedercelo, è importante mantenere le tradizioni. Sai che forse è zero? Cosa anch'io? Cosa? Oggi ho fallito su tutta la linea. Wow, non bene l'orro, non bene, quindi ramanzine e un par di balle. Fallito o la giornata è ancora piena di pasti e puoi ordinare varie pizze ancora e mangiare una pizza adesso per fare una colazione retroattiva di pizza? Ok, sì potrei farlo, ma scusami, visto che mi state giudicando, quante pizza avete mangiato voi? Già, lo immaginavo. Oh no, abbiamo fatto una combo di zero pizza e io sono ancora nella dieta che sta forse per finire, così fra tipo un paio di settimane posso ingozzarmi di pizza e ricominciarla subito. No, aspetta, aspetta. Sei tipo l'esempio di quello che non va fatto durante la quarantena, cioè sei tipo la similitudine esatta di che cosa non va fatto in un periodo. Non niente, avevo pensato a una metaforona ma non mi è venuta. Fa niente. In realtà ho mangiato benissimo, sono stato forzato a mangiare stravene in quarantena, sono dimagrito. Sì, ho capito, ma stai contando i minuti finché non si apriranno di nuovo tipo la diga del vaiont dei carboidrati nella tua vita. Oh, avrebbe fatto mega ridere se avessi detto la biga del vaiont, perché la biga è quella pasta che fai da lievitare per poi fare la pizza del pane. Bravo, Sio, è vero, è proprio vero. Spiegata malissimo, ma è vero. Spiegata malissimo perché io sono il capo delle spiegheretelline. Ciao, avanti! Io invece mi riferivo a un comodo mezzo di trasporto. Parlando di grissini e di carboidrati. Esatto. Io, dato che sono una persona grassa, io li consumo i carboidrati e di conseguenza mi sono andato a mangiare dei grissini e il primo che vorrei tipo leggere con voi è quello di Mazinga Bob che ci chiede quando parlerete di The Mandalorian. È un nome bellissimo. Wow, perché non fa ridere solo a me per una volta? Non lo so, è un bel nome ed è divertente. Su The Mandalorian io ancora non l'ho visto e ancora non ho intenzione di vederlo, ma voi l'avete visto cioè entrambi credono. Allora io sì e io penso anche di averne parlato. Certo, io ho visto Star Wars, tutte le cose di Star Wars, proprio varie volte. Stai zitto Sio, maledizione. Che mega palle Sio. Ce l'ho come sfondo del cellulare tutto Mandalorian. No, io ne avevo parlato, secondo me c'è una possibilità che io avessi parlato dei primi tre episodi dicendo tipo adesso guarderò poi gli altri perché effettivamente erano usciti scaglionati e poi io non abbia mai riproposto il discorso che per me è super positivo. A me è piaciuto un sacco soprattutto l'ultimo episodio che è diretto da Taika Waititi. Ah già giusto. Forse Shadowing. Basta dire Forse Shadowing a caso non è un Forse Shadowing maledizione. Stai zitto. Oltre a essere ovviamente un Forse Shadowing, nell'ultimo episodio di appunto The Mandalorian c'è un dialogo fra due... adesso non saprei dire, cioè so che sono degli Stormtrooper però sono la versione che va sulle motorette, non mi ricordo come si chiamino. Si dice Stormtrooppen, Sandtroopers, Motortroopers, Biketroopers. Esatto, i Biker Mice. Da Tatooine anziché da Marte. Oh, ma tra l'altro Biker Mice, ne parlavo poco tempo fa con Non Mi Ricordo Chi, ma vi ricordate che nomi di merda che avevano? Cioè io mi ricordavo Turbo e Pistone. Turbo Metallo. Turbo Pistone e tipo Brugola, come si chiamava l'altro. Ma Sterzo, non me lo ricordavo. Wow, che schifo. Wow. Detto ciò io penso che ci sia stata una puntata di Il Pube in Primo Piano in cui abbiamo detto la stessa identica frase. Wow, può essere. Sono 13 anni che ripetiamo le stesse cose. Comunque, insomma, quindi Mandalorian è positivo. Allora, voto super positivo, anche se non è nulla di trascendentale che ti cambia la vita, però una bella serie che esplora degli avvenimenti all'interno del mondo di Star Wars. Quindi, cioè, soprattutto visti gli ultimi due film che sono usciti di Star Wars, qualunque cosa non faccia schifo come quelli per me è oro. Detto ciò, volevo puntare l'attenzione su, e di nuovo, l'ultima puntata diretta da Taika Waititi perché c'è questo dialogo fra due Sand Trooper o chi siano. Sì, whatever. Che è scritto benissimo ed è la prima volta che una cosa di Star Wars o nell'universo di Star Wars prima di tutto si prende in giro da sola facendo luce su dei punti su cui tutti ci siamo fatti delle domande. Ti stai dimenticando il Yo Mama Joke di Episodio 8 a quanto pare? Molto probabile. Ho dimenticato tutto di Episodio 8. Compreso Episodio 8. No, c'è questo dialogo fantastico che è proprio tipo una boccata d'aria fresca all'interno di come vengono scritte le cose nel mondo di Star Wars e anche all'interno della serie stessa. Ok. Cioè l'ultimo episodio di per sé è proprio tipo un livello superiore agli altri. Detto ciò, boh, super bello, super consigliato. Io mi ero preso benissimo anche solo per il fatto tecnologico di come avessero girato tantissime scene perché hanno usato quasi zero green screen. Ma hanno girato quasi tutto su del... diciamo tipo all'interno di degli studi con dei led wall giganteschi intorno che proiettano le immagini, non so, del pianeta sul cui sono piuttosto che... Ah! Avevo visto tipo un mini... Non documentario, tipo una mini pubblicità di quel tipo di tecnologia che adesso stanno iniziando a usare in alcuni teatri di posa. Che cosa super figa! Fighissimo! Io mi sa che ho visto la stessa cosa perché è un mini documentario oppure tipo un approfondimento su come è stata utilizzata questa tecnologia su The Mandalorian e troverò il video e lo linkerò. Ma no, è folle quella cosa! E la cosa assurda che io non capivo prima di guardare questo video era che, ok, ci sono tantissimi televisori, per renderla molto semplice, sul soffitto e su tutte le pareti intorno che non hanno spigoli e di conseguenza non ha il senso della profondità. E su questi tantissimi televisori proiettano queste gigantesche immagini in modo che facciano da sfondo a quello che stanno effettivamente girando con gli attori. Sì, il discorso è che tipo c'è un software che in tempo reale calcola tipo la luce, la profondità, tutta una serie di cose. Esatto! E che quando poi vedi il risultato finale dici Aspetta un attimo, cosa? Cioè, i miei occhi non credono a questa cosa che sto vedendo in questo momento. Cioè, tutti questi televisori giganti insieme con un tracker sulla macchina da presa fanno la correzione della parallasse e di conseguenza tu vedi che man mano che muovi la telecamera all'interno dello spazio tutto lo sfondo inizia a cambiare esattamente come succederebbe fisicamente. Certo, certo. È incredibile ed è bellissimo, non vedo l'ora di vedere più cose. Wow, l'hai spiegata in maniera stranamente competente. No, stranamente non avrei dovuto dirlo perché era maleducata. Comunque già si capiva molto bene, è spiegata così. Comunque, maledetto idiota, l'hai spiegata in maniera competente. Beh, quindi io potrei dire che io posso chiudere qui la puntata, giusto? Andate avanti voi. Sì, wow, questo grissino è diventato praticamente il main argomento dell'episodio. E bene, quindi sì, l'abbiamo visto. Comunque sì, trovate questo, la dimostrazione di questa cosa di cui stiamo parlando che ha un nome che non ricordo nelle notte dell'episodio, così potete andare e meravigliare con i vostri stessi occhi. Si chiama Power Webcaming. Cosa? Non è vero. Oh no, è una di quelle puntate in cui Sio dice le cose che pensa. Maledizione. È che ho pensato, mentre lo dico posso farmi venire un buon nome. E poi non era vero. Wow. Ha mai funzionato questa strategia, scusami? Ehi, chi sono io? Una persona che si appunta se le proprie strategie funzionano o meno per riutilizzarle in futuro o una persona che le usa e basta? Comunque grissino, che volevo leggere di Blufgnuf, che avete tutti dei nomi bellissimi, complimenti, che ci consigliava il film, a proposito di Low Budget, Spider-Man e Italiani in Australia, ci consigliava Italian Spider-Man. Wow. Ne avevo anche già parlato, credo. Probabilmente, ma volevo esserne sicuro di consigliare a tutti che vedessero subitamente Italian Spider-Man. Ovvio. Al rugo. Rispetto alle donne. Spider-Man, che è un capolavoro che è uscito ai tempi in cui noi andavamo all'università e al posto di studiare le biblioteche guardavamo ripetutamente Italian Spider-Man. Per questo ora facciamo dei lavori che non esistono. Grazie, Blufgnuf. Tra l'altro è anche l'unica volta che ho visto Sio fare un cosplay di qualcosa e trovate la sua foto nelle note dell'episodio. No, no, è l'unica volta che mi sono tagliato il pizzetto per fare solo i baffi di Italian Spider-Man. La notte di Santa Lucio verrà per sempre ricordata. E quindi, insomma, beh, avete letto un grissino a testa, io non ho grissini da leggere. Spero possiate trovare nel vostro cuore la volontà di perdonarmi, cari ascoltatori, scusate. Ti perdono, ma con un tono arrabbiato! Lo accetto comunque, grazie. Di che cosa volete parlare, ragazze? Avete delle menu's? Menu's! Sì! Menu's! Wow. Certo che ci sono tante menu's oggi, in realtà. Quanta energia in questa puntata, wow. No, allora, una cosa di cui vi volevo rendere partecipi è che è uscito un ultimo finale update di Super Mario Maker, che so che non ve ne frega niente. Vero. Non sapevo neanche che ci giocassi, onestamente. È un gioco a cui ho dato dei soldi, l'ho comprato, l'ho scaricato e non ci ho mai giocato perché ho giocato solo a Smash. Sono stupido? La risposta è nella prossima puntata di Power Pizza. Comunque è uscito un update fighissimo in cui puoi fare le mappe del mondo e creare un intero gioco di Mario con tutta la mappa, è bellissimo. Wow! Ora ho capito di che cosa stessi parlando, subito non mi era sembrato sensato. È perché mi sono spiegato male. Che cosa fighissima! No, è bellissimo, praticamente puoi farti una mappa stile Super Mario World e metterci dentro i tuoi livelli che hai creato e creare tipo Super Power Pizza World o una cosa del genere. No, ma più che altro, se già solo con l'editor dei livelli la gente creava delle cose incredibili, adesso che hanno la possibilità di creare un intero gioco, cioè faranno delle cose completamente fuori di test. Esatto, e in questo update tra l'altro hanno aggiunto anche i power up di Super Mario Bros 2 e sostanzialmente prendi questo fungo strano e al posto di saltando sui nemici ucciderli diventi con le meccaniche di Super Mario Bros 2 li puoi sollevare e lanciare e diventa un gioco completamente diverso. Sono impazziti completamente, hanno aggiunto anche dei power up che non c'entravano a niente. Volevo solo dire che è bello che continuino ad aggiornare con tantissime feature un gioco dell'anno scorso. Wow, che bello, bravi! Cioè, non ci giocherò mai ma sono molto felice di questa cosa. Ok, io magari se riesco a farlo mi piacerebbe fare un livello di Power Pizza, però restate sintonizzati, sicuramente non lo farò. Not happening, però bel pensiero, comunque grazie Sio. Anzi, tipo, aperta subito, tipo, la challenge a fai il tuo livello di Power Pizza dentro Super Mario Maker 2. Ah, sì, giusto! Fatelo voi, non facciamolo noi! Wow, hai trovato subito l'escamotage per non doverlo fare e creare engagement, tra l'altro. Bravissimo, dieci punti influencer. Eh, ok, uno era questo e l'altro è Midnight Gospel. Ne avete sentito parlare? Sentito, ma non so che cosa sia. Me la stanno consigliando di continuo, che cos'è? Allora, hai presente Pendleton Ward? Sì, è uno dei miei idoli della vita, sì. Esattamente. Sostanzialmente ha fatto un Adventure Time con le droghe per adulti. Ah, what? Per Netflix. Adesso capisco perché me lo continuano a consigliare. Perché l'ha progettato lui, non so se è prodotto o cosa, però ci intra Pendleton Ward, quello di Adventure Time, ed è una roba che anche solo spegnendo l'audio e guardando solo le animazioni, non ho ancora guardato niente a parte il trailer, ma sembra una cosa di una qualità eccelsa a livello di animazione. Wow, oddio, ma io spero che lui sia attivamente nella parte creativa della serie, cioè spero che non sia solo tipo da un soggetto di Pendleton Ward, perché caspita, cioè Adventure Time è una cosa bellissima, ma Adventure Time quando c'era dentro Pendleton Ward era un capolavoro incredibile. Sì, sono d'accordo. E comunque questo è, con la scusa delle droghe, tra virgolette, fa tutte delle animazioni super psichedeliche che non riutilizzano degli asset, è tutto animato bellissimo a mano e niente, non vedo l'ora di guardarlo. Wow, che cosa fighissima. Ok, sì, adesso capisco un sacco di cose e non vedo l'ora di vederlo anch'io. Poi magari la storia fa schifo. Spero di no, è appunto quello che dico, non lo so. Questo si chiama Midnight Gospel. Sì, The Midnight Gospel. Alex, aggiungi alla lista delle cose da vedere. Sta parlando con tipo un tostapane, non sa quello che dice. No, è sempre il solito muro, solo che io ho dato un nome e gli ho disegnato degli occhi e una bocca. Ah, a proposito di tostapani in casa di Nick. What? Non so se l'abbiamo già consigliato nella puntata scorsa, ma lo rifarò in caso. Ascoltatevi la puntata di Phone Hacks. Ah no, non l'abbiamo consigliato. Giusto, grande. Esatto, perché è un podcast in inglese con il coinquilino di Nick, Nick Kapper, e un altro tizio di cui non mi ricordo il nome. Mike G. Esatto, e Nick come ospite. Quindi nelle notte dell'episodio trovate linkato l'episodio a cui ha partecipato Nick. E niente, ha fatto un riderissimo. Sì, e tra l'altro sono riuscito a parlare di Power Pizza durante il podcast. Io sono così fiero di voi per il fatto che tipo avete un... Ok, fine della frase. Cosa no? Nuova challenge per gli ascoltatori di Power Pizza, inserisci qui quello che pensi che Lor voleva dire. Ok, allora, hai fatto strabile a consigliare questa cosa, ho una domanda per voi due. Inizio a parlare di qualcosa che mi ha divertito o qualcosa di cui voglio lamentarmi lievemente. Lamentino. Divertito. Ah no! Io amo l'orro lamentone, è una figata. Beh, allora visto che siete divisi, parlo prima della cosa che mi è piaciuta. Cioè, hai solo scelto di fare la cosa che non ti ho chiesto io, non è che ci siamo divisi. Forse. Non lo scopriremo mai, temo. Premessa, ve lo ricordate Edwood? Il film del 94, quello di Tim Burton, su Edwood? No. Eh, madonna. Cioè, sono consapevole della sua esistenza, non l'ho mai visto. Il 94 era un periodo in cui guardavo ancora i film. Ok, l'avevi visto quindi? Cosa stai dicendo? Non l'ho vista davvero. Oh, dannazione. Sto scherzandissimo. Perché ci casco ancora? Comunque, vabbè, niente, speravo di ricollegarmi a quello, ma se non l'avete visto è un po' inutile. Comunque, fondamentalmente, il film era questo biopic su questo regista ritenuto da molti uno dei peggiori registi mai esistiti. Uno che faceva le cose con tipo due lire e fatte malissimo. Wow! E praticamente Tim Burton ci tira fuori uno dei suoi film migliori, il film era stra divertente. E, niente, era tutto intorno a questo regista disastroso. E qualche giorno fa mi sono visto Dole Might Is My Name. Avete presente chi era Rudy Raymore? No, però stai parlando del film con Eddie Murphy nuovo, giusto? Esattamente, sì. Praticamente volevo ricollegarmi al film di Tim Burton, perché anche questo è un film su un tizio che si improvvisa fondamentalmente non regista, ma attore. Stiamo parlando di Stati Uniti negli anni 70. E questo tizio totalmente improbabile che inizia facendo dischi che a quanto pare poi sono serviti anche come ispirazione per tipo il rap in anni successivi. E a un certo punto decide che doveva diventare tipo una stella del grande schermo. E si mettono a girare questi film terribili, che poi in realtà credo che a livello commerciale abbiano avuto anche un discreto successo. Ma che erano ovviamente tipo fatti super male. Niente, cioè questo film è la storia fondamentalmente della persona che questo Rudy Raymore si crea, che appunto si chiama Dole Might. E di tutta la sua, tra virgolette, ascesa al successo. Boh, è carino perché non ha poi quel twist che aveva il film di Tim Burton, che fondamentalmente alla fine ti dice sì, ok, questo ha fatto tutte queste cose, ci ha messo un sacco di cuore, ma è comunque tipo morto solo e povero perché faceva cose terribili. Questo qua ha avuto anche tipo un riscontro commerciale di qualche tipo. È un pochino più, insomma, positivo come messaggio. Ti dico, non è un cavolavoro di film, ma io l'ho guardato strapiacevole. E soprattutto è stato bello vedere Eddie Murphy dopo una caterva di anni che si impegnava genuinamente in un ruolo. E in più ci sono comparsate o piccoli ruoli di un sacco di altri attori. Oltre cui tra l'altro c'era anche Wesley Snipes. Cosa? Super caricaturale. Wow, che bello lui! Potrebbe anche essere offensivo, mi viene il dubbio. Però tipo in realtà mi ha fatto super ridere, perché era esageratamente sopra le righe. E quindi, se avete voglia di una cosa tipo Ed Wood, ma un pochino più ottimista, potete buttargli un occhio. E poi a quanto pare c'è Bob Odenkirk, che è la mia persona preferita perché fa Saul Goodman. Hai aperto Wikipedia e hai letto un nome a caso. Certo. Sì, stavo cercando di vedere chi c'era nel film che conosceva a parte Eddie Murphy e c'è Bob e gli voglio bene. Ah, è quello di Saul, ok. Adesso ho visto. Sì, Saul Goodman. Ok, ok. No, io dicevo che avevo visto i trailer quando erano usciti, quando avevano presentato il film, e non riuscivo a capire se fosse uno di quei film che avrei voluto vedere o meno. Ora tu hai cambiato questa cosa, quindi secondo me andrò a vederla. Grazie Lorrino, come sempre. Boh, ti dico, se dovesse arrivare e dirmi ok, l'ho guardato, mi ha fatto cagare, non mi offenderei. E ok. A me è piaciuto però, l'ho trovato piacevole. Ah, ma è un film uscito su Netflix. Davvero? No, è prodotto da Netflix. Ah, meno male allora che l'ho visto su Netflix e non l'ho turbo scaricato in maniera illegale allora. Cosa? Sì? Ok. No, è su Netflix. Ok, ok. Eh, bene. Ok. Bello, Dottor Dolitto, Dolemite is my name. Quindi gli piacciono le alliterazioni con la D e la L. Bravo, Eddie Murphy. Ma tra l'altro, adesso che hai citato Dottor Dolittle mi è venuto in mente, ma qualcuno ha visto il remake, o cosa vogliamo chiamarlo, di Dottor Dolittle? C'è un remake del Dottor Dolittle? No, sì, è uscito adesso con... Robert Downey Jr. e Tom Holland. Cosa? Ho visto solo tipo un po' della storia produttiva di quel film e mi ha fatto molto ridere. Tra l'altro credo sia stato un gigaflop. Eh no, io ho detto che c'era Tom Holland, in realtà c'è Rami Malek. Scusate. Vuoi dire Freddie Mercury? Come fa a non essere stato un flop colossale? Sembra un film bruttissimo! Non riesco a capire chi abbia pensato che fosse una buona idea a proporlo. Boh. Vabbè, a parte film che non abbiamo visto e che non vogliamo nemmeno vedere, parliamo di qualcosa che ci piace invece. Sì, o a te cosa piace? A me piacciono i videogiochi, però non ci riesco a giocare abbastanza. Mi sono stufato di giocare Animal Crossing, come vi dicevo. Ho provato a giocare a, come si chiama? Sì, giusto, Smash, però non funzionava l'elettricità. Che noia! No, però seriamente era solo per dire che per tipo tre giorni degli ultimi quattro giorni, dalle undici alle cinque di pomeriggio, non c'era l'elettricità in casa mia. Quindi volevo giocare ai videogiochi, ma avevo solo un videogioco installato sul mio cellulare. Blot twist! No, seriamente, l'avevo installato quando mi sono iscritto ad Apple Arcade, dimenticandomi totalmente di usare Apple Arcade, che è quella roba che gli dai 5 euro a Apple ogni mese. Si chiama Grindstone, questo gioco. Ok. Ed è fantastico, è bellissimo! Cioè, volevo solo consigliarlo perché è un puzzle game, io adoro il puzzle game. Non ce ne eravamo accorti. Ah sì? Non parla molto di puzzle game, scolpa di Sio. No, infatti. Ah no, ok. Cioè, è molto raro che io parli di puzzle game. Scusami, ok. Però è vero che mi piacciono molto, se sono fatti bene come questo, perché questo è chiaramente un gioco che era stato creato per delle microtransazioni, però Apple ha detto, tieni dei soldi, lo pubblichiamo su Apple Arcade, e sostanzialmente è solo diventato un gioco bello. Cioè, ce le ha le meccaniche che devi refillare la vita, devi ricomprare le pozioni e tutto qua, ma lo fai con delle valute che guadagni nel gioco. È bello, cioè mi piacciono i giochi che non sono dei paper win. È incredibile, il focus del gioco è il gioco stesso, è molto innovativo, mi è piaciuta proprio questa... Game changer. Game gamer. No, allora, la questione è che intanto l'animazione di questo gioco sembra un episodio fatto benissimo di Adventure Time. Era quello che stavo per dire, sto guardando le immagini adesso, è bellissimo. Sì, lo stile grafico richiama un sacco, effettivamente. Lo stile è fantastico, a parte che c'è un gioco su Apple Arcade con l'animazione di sempre Pendleton World, però di quello ne parliamo un'altra volta. Questo è fatto strabenissimo, c'è un team di animatori che hanno anche lavorato tipo alla Dreamworks, alla Disney, cioè è bellissima. Ogni cosa animata nel gioco è fatta con la massima cura, al 100%, ma il gioco è molto semplice. Tu hai un quadrato, tu sei Giorgio, questo guerriero a torso nudo, fatto solo di muscoli e con delle gambe piccolissime e che ha uno spadone gigantesco. Giorgio ovviamente è scritto J-O-R-J, perché, boh, motivi. Grazie per aver menzionato questa cosa, però. Esatto. Uno dei selling point del gioco, lo spelling di com'è, lo spelling del protagonista. No, allora, il gioco è, hai un quadrato, sostanzialmente, e ci sono dei mostrini di colori diversi. Tu, con lo spadone di George, puoi uccidere i mostrini solo dello stesso colore. Quindi puoi ucciderne uno vicino a George, puoi spostarti a un altro vicino a quello, ma solo se ha lo stesso colore. E facendo così, crei tutta una catena che si deve fermare se non ne trovi altri dello stesso colore. Però se crei una catena di dieci mostrini, crei un grindstone, che sostanzialmente ti permette di cambiare colore nel prossimo turno, se riesci a prendere il grindstone e creare delle catene ancora più lunghe. E sostanzialmente è tutto lì il gioco, però è bellissimo, animato da Dio, ha delle piccole accortezze. Sì, i puzzle game, nel senso di solito, hanno una premessa che è super semplice. Esatto. E dipende solo da come è eseguito la cosa. Fine della frase. Esattamente. È tutta esecuzione questo gioco. Ha dei piccoli power-up che puoi usare, ci sono dei nemici più forti e così via, ma il gameplay in sé è, boh, Candy Crush. Non ho mai giocato a Candy Crush, però è un gioco del genere, solo fatto animato bellissimo, perfino l'audio, sia la musica che gli effetti sonori sono fantastici. Io ve lo consiglio tantissimo, non ho pensato a un voto in fette di pizza, però... Chissà se c'è su Android. Temo proprio che sia fatto... In esclusiva per Apple Arcade. Quando Apple prende le cose su Apple Arcade, sostanzialmente chiede l'esclusiva per il mobile. È per quello che tanti giochi su Apple Arcade sono, per esempio, usciti su Switch, su PS4, ma non su Android. Sì, sto controllando, sì, no, c'è solo per cose Apple, purtroppo. E niente, Apple Arcade si conferma ancora una volta, è una roba incredibile. Quindi, insomma, grazie, Sio, perché ci stai recensendo una cosa che l'80% di noi non potrà giocare, quindi possiamo dire che sei un elitista e che... Aspetta, non è necessariamente vero. Forse intendi il 66% di noi lo può giocare, perché io e Nick abbiamo un iPhone. Esatto. E poi, comunque, è appena uscito un iPhone piccolo che costa solo 500 euro, è quello che costa di meno di tutti. Davvero? Wow. Sì, è uscito l'iPhone SE 2. Ok, chi se ne frega, ma non lo sapevo. Sì, vabbè, è lo stessissimo. Era solo per fare la battuta che costa solo 500 euro. Sì, infatti. Vabbè. Aha, a quando farai la recensione dell'iPhone nuovo, Sio? Rispondone! Wow. www.powerpizza.it Che belle le puntate in cui abbiamo pochi contenuti. Parlando di contenuti, io ne ho un sacco, o almeno ne ho uno che si dirama tantissimo. Sei sicuro di voler usare il verbo diramare? Oddio, argomenti che si diramano in bocca, Nick. Mi fa già paurissima sta cosa. No, allora, non volendolo, cioè almeno non pensando di doverlo fare, ho già parlato di Taika Waititi e di quanto io ami quel super uomo. Smettila di ripeterlo ogni puntata, tra l'altro. Super uomo. No, oggi parlerò solo di lui. Siamo tutti d'accordo con te, ma basta. No, ho detto. Sai che cos'è che è più bello di solo amare questo uomo? Andare effettivamente a vedersi i suoi vecchi film. Anche. Visto che ci piace doxare la gente, nelle note dell'episodio trovate l'indirizzo di casa sua. No, allora, di conseguenza ho detto tipo, ho un sacco di tempo, andiamo a vederci almeno due dei suoi film grossi, che sono Boy e Hunt for the Wilder People. E in questo caso ho guardato Boy, che è del 2010, è il suo secondo lungometraggio. Nel 2007 lui aveva fatto Shark vs Eagle e poi nel 2016 avrebbe fatto Hunt for the Wilder People. E poi, diciamo che soprattutto in Australia, essendo lui un regista neozelandese, ed è uno dei pochissimi che è diventato molto popolare, qui lo adorano un po' tutti, quindi con chiunque parli gli dici tipo, oh ma l'hai mai visto Boy? Dicono, certo, l'hai visto cento volte è bellissimo. E io non l'avevo effettivamente mai visto, ed è un'ora e ventisette minuti di che bello, che super bello. Tra l'altro è una bella durata, scusa se mi concentro sulla cosa più triviale, mi piace come durata. È perché è un momento che non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo fare il bucato, vai. Comunque, il film raccontato in soldoni è la storia di Boy, che è il nome del personaggio principale del protagonista, che è un bambino di undici anni, in questa campagna della Nuova Zelanda nel 1984, che vive assieme alla nonna materna e al suo fratellino e altri tipo sei o sette bambini che non sono riuscito a capire se fossero della zia, della sorella, dell'amica, della vicina di casa. Comunque c'è questa casa piena di bambini piccoli e la nonna materna che all'inizio del film dice io devo andare a un funerale, ci metto sei giorni ad arrivarci, ci vediamo la prossima settimana, Boy guarda tu gli altri bambini. Aspetta, ci mette sei giorni ad arrivarci, ma poi deve anche tornare indietro, ci metterà due settimane. Sì, ciao nonna. In tutto questo, il film si apre con Boy, che è a scuola. Dannazione. Non sono ancora riuscito a capire che cosa fa ridere Sio e che cosa no. Cioè, ne giuro, non riesco a capirlo dopo tutti questi anni. Ciao nonna, mi ha fatto ridere. Wow. Comunque, il film si apre con Boy, che racconta di suo papà, il papà è interpretato da Taika Waititi e lui dice che suo papà in questo momento non c'è in Nuova Zelanda e via da qualche altra parte, però racconta di come suo papà sia stato tipo un guerriero all'interno di una guerra in Giappone, sia il capitano della squadra di football, sia il più grande fan di Michael Jackson e l'abbia conosciuto più volte, abbia vinto la medaglia per più persone prese a pugni con una mano sola, sia tipo un... non mi ricordo come si chiamano quelli che lavorano in legno. Fa legname. Uno scultore con legno. Legnatori. Un legnatore, eccetera, eccetera. La storia fondamentalmente di questo bambino che è cresciuto senza il padre e che con una super figa immaginazione si inventa delle storie sul perché lui fosse stato assente durante tutta la sua vita. Quindi non dice tipo ha avuto un papà persona brutta che se n'è andato, ma si inventa tutte le storie del perché suo padre non ci fosse. Finché a un certo punto, mentre lui deve guardare tutti, compreso il suo fratellino Rocky, che è penso il personaggio più bello di tutto il film, finché una sera non ritorna il papà insieme ai due compagni di cella con cui è scappato da un penitenziario, perché è tipo un piccolo criminale. Wow, ok. E di come è tornato alla casa appunto di sua madre, in realtà per cercare dei soldi che aveva nascosto prima di farsi prendere dalla polizia. Adesso ci stai già raccontando tutto il film, giusto? Siamo in quel momento in cui ci racconti tutto inizio, fine e svolgimento. No, perché questa volta mi sono basato su esattamente la descrizione che dà IMDB. Ok. Quindi se non dico nulla di più di quello che c'è scritto sotto l'immagine del film. Ma su IMDB non c'è l'intera trama di solito? Sì, con le tue righe su IMDB sinossi completa. No, perché se stiamo parlando della sinossi breve, sono tre righe e hai già sforato. Sono quelle. Non è vero! Non è vero! Sono un sacco di dettagli che non ci sono in queste tre righe. Ma lasciatemi fare una recensione una volta nella vita, vi amo, ma vi prenderei a pugni. Allora, comunque, la cosa bellissima di questo film, oltre alla storia, è il tono. Ed è proprio quello che ha consacrato il modo di girare film e scriverli, perché ovviamente è scritto anche da lui, di Taika Waititi. Che, e qui parte una diramazione, c'è un canale YouTube che si chiama We Need to Talk About Film, che ha un video essay esattamente su questi tre film che vi ho citato, che si chiama Taika Waititi Mastering Happy Sad Cinema. E sono nove minuti in cui spiega il tono che Taika Waititi dà ai suoi film e di come si è riuscito a far coesistere questa cosa della nostalgia e di una tristezza non basata sul dramma, sul dramma in cui vedi le cose succedere, ma sul dramma che aleggia nell'aria e questa nostalgia che creano tensione che lui utilizza per farti ridere. È molto vera questa cosa, tra l'altro. Sì, io ogni tanto dico delle cose giuste. Sì, ma anche perché poi, cioè, una cosa che lui è bravissimo a fare è che magari, tipo, i temi trattati sono drammatici e seri, ma il modo in cui lo fa è ironico e più scansonato e leggero, però riesce, appunto, a gestire molto bene questo scarto di tono. E io vi giuro, questo film è di una bellezza incredibile, perché i temi principali del film sono l'immaginazione, la fanciullezza o il mondo visto dagli occhi di un bambino innocente, e poi c'è la tristezza e il senso di famiglia, ma sono tutti uniti in una maniera così ben strutturata, ma così semplice, che sono un'ora e ventisette di sentimenti nella pancia. Cioè, è veramente bravissimo. Ma i sentimenti vanno nel cuore, Nick, non devi mangiarli, sei pazzo. Ascolta, Sio, lui è un esperto di sentimenti. Esatto. Ultima cosa da dire sul film è che una delle cose che mi piace tantissimo, a parte il tono, è come lui sviluppa l'umorismo. E anche soltanto a livello di cultura dei paesi da cui proviene, la Nuova Zelanda ha un tipo di scrittura, un tipo di umorismo, che è molto più simile, a livello di commedia, a quelle inglesi che non a quelle americane. Ah sì, madonna. Io mi sono sempre immaginato come se fossero due persone, no? Se chi scrive commedia americana è un tizio che sa solo urlare e parla solo in caps lock, e le battute vengono spiegate cento volte. Se anche non bastasse solo farle recitare all'attore, ti devono fare anche vedere più volte. Quello che invece fanno in Inghilterra, e in questo caso in Nuova Zelanda, è quello di mettere dei piccoli semini, seminare veramente tipo tutta una serie di cose, per poi farti arrivare a ridere. Ma sono dei dettagli che creano veramente un senso narrativo, oltre che fare una battuta. Nulla di quello che fa ridere in questo film serve solo a farti ridere. Bellissimo. Esatto, quindi andatevi a vedere Paul Blart, Mall Cop, maledizione, sono infappinato, volevo fare una gag. Comunque, è veramente un film bellissimo, per me prende senza ombra di dubbio dieci fette di pizza con i gelati sopra. Più edibile del solito. Esatto. Sì, è più edibile, e sono contento che sia un bel film, e tra l'altro me lo andrà a vedere di sicuro, perché anche io non l'ho mai recuperato. L'unica cosa è che adesso tipo parto così dubbioso, se dieci fette di pizza siano effettivamente dieci fette di pizza. Sono dieci fette di pizza di Nick, potrebbero essere sei o dieci. Esatto, esatto. Ultima cosa che voglio dire sull'argomento, una scena molto importante del film Boy è una citazione a un corto che Taika aveva girato nel 2004, che si chiama Two Cars One Night, che era stato quello che per la prima volta è stato nominato agli Oscar, e quindi diciamo che ha iniziato la sua carriera. Io non lo sapevo fino ad oggi, ma c'è su YouTube. Ah, nice. Si trova su YouTube, perché è stato condiviso l'anno scorso da Searchlight Pictures. È vero. Cioè dico è vero perché sto guardando adesso, scusa. E avendolo visto io oggi mi sono reso conto che In Boy, che è il secondo lungometraggio che ha fatto dopo questo, ha fatto una citazione colossale al suo stesso cortometraggio. Fine. Figo, figo. Ho detto tante cose. Sì, però io sto guardando velocità doppia, per ora c'è solo una macchina, quindi false advertisement, no thanks. Ok, no, figa questa cosa. Non volevo dire altro, cioè la mia frase era tutta lì. Fine. Tra l'altro, oddio, mi rendo conto adesso che tu hai dato un voto alla tua cosa, io sì, io invece no. Chi è il più zelante dei power pizzettari? Però non so se si ho voglia a dare un voto al gioco elitista di cui ha parlato. No, non ci avevo pensato, però sicuramente Grandstone ha almeno otto fette di pizza e mezza. Ah, madonna. Sì, con qualcosa che ti fa venire voglia di mangiarne ancora, cioè qualcosa che dici, beh, è proprio buono. Rucola. Rucola. La rucola e il salamino. Ah, sì, buono. Eh, dici, beh, è leggera, buona. Ancora. Ancora. Ancora pizza! Ok, calmati. Boh, a sto punto io allora, Dolemite is my name. Oddio, boh, oggi mi sento iper generoso. Sette fette di pizza. Una pizza, tipo una diavola. Buona, ok, sette fette di pizza. Bene, che bello. Che buona la pizza, ragazzi. Io posso dirvi brevemente un piccolo segmento che ho preparato? Eh, sì. Segmento mi preoccupa, però sì. Definisci brevemente. No, brevemente, cioè, semplicemente volevo parlarvi del quartetto Cetra, di dirvi la mia canzone preferita e la mia canzone schiferita. Perché in questi momenti mio figlio sta ascoltando tantissimo il quartetto Cetra, quindi io sto ascoltando tantissimo il quartetto Cetra. Assetta, nel senso che tuo figlio sta scegliendo attivamente cosa ascoltare? Sì, era quello che mi stavo immaginando. Ero rimasto che tuo figlio avesse tipo un anno. Un anno abbondante. Sì, scusa. No, la questione è che puoi mettere tipo della musica e vedi chiaramente che lui non la vuole. Ok, sì. Dell'altra musica invece gli fa molto piacere. E il quartetto Cetra la adora. Lo puoi usare per recensire le cose. Non ti dovresti neanche sforzare. Gli fai vedere delle cose e dai il voto in base alla sua reazione. Wow, stonks. Dovrei usarlo per fare delle pizze baby. Però not yet, not yet. La questione è che volevo parlarvi solo di quanto loro siano una figata. Cioè, proprio, ascoltatevi il quartetto Cetra perché sono bellissimi. E la migliore canzone si chiama Pummarola Boat. Ed è, parla di una nave piena di pummarola. Ed è bellissima. È una canzone fantastica. Quasi quanto la loro peggior canzone è quella stupita canzone degli Elefanti Rosa di Dumbo. Aspetta. Wow. In Dumbo, in italiano, era loro la canzone? Era loro. Non mi ricordavo assolutamente. Forse non ne avevo neanche idea. Eh, ora ce l'hai. Sostanzialmente ogni volta che nella playlist appare quella canzone devo andare alla prossima canzone immediatamente perché mi vengono i flash del Vietnam di quando ho visto Dumbo. No, cioè, Dumbo è il peggior cartone da far vedere a un bambino che abbia tra i 0 e i 90 anni. Dumbo era un bel film, è che, insomma, è estremamente datato visto oggi. Sì, sì, sono d'accordo. Beh, comunque ce l'abbiamo fatta. 88, 89, quante puntate sono? Siamo riusciti a parlare di un gruppo musicale degli anni 40. Nel prossimo episodio vorrei recensire La Stele di Rosetta, se me lo permettete. Mi sembra cosa buona e giusta. Wow, sono stati attivi fino al 1988. Wow. Se stavo guardando anche io adesso mi stupito sta cosa. Coincidenze? Forse è il fatto che siamo nati che gli ha detto, ok, il nostro compito qui è finito, andate avanti voi. Ricordiamo che Sio e Nick sono nati nell'88, peggiore anno, io per mia fortuna sono nato nell'87, migliore anno. Migliore anno, lo sappiamo benissimo. E tu, quale pensi che sia il peggiore anno? Scrivilo nei commenti a www.powerpizza.it oppure mandandoci un messaggio su atpowerpizzapodcast111222333 su Instagram. Tra l'altro sai la cosa veramente bellissima o patetica o entrambe le cose? Che io tipo ho una nota sul telefono che si chiama figate del 1987, scritto in maiuscolo, dove ogni 2x3 mi ha noto delle cose quando scopro che sono nate nell'87 e così poi tipo quando sostengo questa cosa che è l'anno migliore posso sostenerla con dei fatti. Wow, prossima puntata monografica sull'anno 1987. Ti posso dare già delle piccolissime anticipazioni. Prima Randy Star Trek The Next Generation, è uscito Final Fantasy, è uscito Robocop, Zelda negli Stati Uniti e potremmo andare avanti mezz'ora. Wow! Wow, best anno! Te l'avevo detto! Ok, quindi lasciate anche voi il vostro anno di nascita nei commenti, così, senza contesto, e soprattutto su Instagram cosa possono fare i nostri amici e amiche da oggi e per oggi intendo tipo due settimane fa. Grazie a Matteo Foresti che per gli ultimi sette mesi ha provato a far funzionare il filter di Power Pizza, finalmente Power Pizza ha un filtro. Su Instagram? Su Instagram ovviamente. Che bello! Un filtro con cui si possono dare dei giudizi alle cose a caso completamente. E mi fa molto piacere sapere che non tutte le pizze sono edibili all'interno di quel filtro, quindi è corretto. Tra l'altro per quanto mi faccia piacere che già dal primo giorno un sacco di persone ci avevano taggato nelle loro storie giudiziose, giudizievoli. Giudiziarie. Ricordatevi che è un filtro per dare i voti alle cose, quindi usatelo per dare i voti a qualcosa. Esatto, non usatelo solo appiccicandovelo alla faccia. Altrimenti arriva la polizia. La polizia sta facendo troppe cose ultimamente. Multare la murgia, multare voi, altre cose. Wow, davvero? No, no. Però quasi, ci hanno provato. Però lei stava facendo la spesa, quindi no. Va bene, fate anche voi la spesa. E mi raccomando, recensite tutto quello che comprate. Stay hungry, stay foolish. Mangiate la pizza. Perché lo devi ripetere ogni puntata, sta cosa di stay hungry? Non lo so, non lo so. È diventato il mio punto esclamativo ultimamente, alla fine di Power Pizza. Fa ridere perché è morto. Fa ridere perché probabilmente è anche tipo protetta da copyright, quella frase. Ok, allora bippiamola per favore la prossima volta, così siamo sicuri. Che non ci denunciano. Grazie ragazzi. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Come al solito, sapete dove trovarci. www.powerpizza.it È l'account Instagram, l'ha già detto il buon Nick. È Power Pizza Podcast 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ma soprattutto, nella prossima puntata, anzi, nella prossima puntata di Power Pizza. Eh, vi parlo dello zecchino d'oro. Ciao. 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 E' un podcast veramente bellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio. Grazie a te. Grazie a tutti